Davide Capparini, perché lei dice che il governo Renzi nella legge di stabilità penalizza i paesi di montagna? Beh, li penalizzano i fatti, in quanto sono tante le misure che in passato erano state introdotte a favore delle genti di montagna e che in questa legge finanziaria sono state completamente tagliate. Dopodiché l'attacco a quello che è la montagna e ciò che rappresenta è strisciante in tutto il testo. Si va dall'aumento dei costi per il riscaldamento, ovvero i pellets che tanto vengono utilizzati nelle nostre aree, ma anche la cancellazione prevista per il 2016 dell'agevolazione importante per il gasolio, il GPL e il riscaldamento. Questo insieme al fatto di far pagare, ed è una scelta veramente allucinante, far pagare l'IMU agricola sui terreni di montagna, la dice lunga sul fatto che chi disegna queste norme non sa cosa vuol dire vivere in montagna e quali sono i costi che deve sopportare chi in montagna lavora. E soprattutto sono tutte misure fatte solo ed esclusivamente per raccogliere il denaro che serve per far quadrare i conti di uno stato ladro. Grazie. Grazie. Grazie.